22 dicembre ecco qua nel farmi la piega mi sono nata mi sono rilassata troppo fino al punto di andare a bruciare infatti adesso vediamo che lo spunta qualche bolla speriamo vi lascio con le immagini ok ho già dilato la prima è la ultima che si trova a raccogliere oppure poi ci sono una panoramica di tutto su una panoramica con la panoramica la panoramica la panoramica la panoramica non mi so la panoramica la panoramica ma non mi so la panoramica mando lo da faccia pochi giorni adesso è vero Oggi ho deciso di andare a fare il risotto agli asparagi. Ok, c'ha appena scritto, va buon Natale? Ah, ok. Ok, c'ha appena scritto, va buon Natale? We were riding through the woods with our bikes We got scared when it got darker at night Cause everyone was missing safety lights So we tried to use a flashlight as a guide And now I'm standing in an overcrowded train Picturing the times we had as children while the rain It's pouring down the wind and suddenly people push their way I think better days, I think better days Take me back to my hometown Take a little shopping Oggi dovrebbe arrivare tramite Amazon Il vestitino di Natale L'habitino di Natale Ok, non è ancora pronta Si vuole fare i capelli All the things they said to hold her back They never seem to leave her head And tend to keep her mind at war All the things they said to hold her back Like they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before Her eyes are swollen as she tries to hold her tears That's sick I'm out of the tem uni Under their крocot I'm not gonna die I'm not gonna die What are they gonna die? So now I'm gonna let her Come do my dog ok, ora ti va a fare questo tipo di naso io adesso e adesso ok 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 Buon giorno oggi è il 23 dicembre Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti